Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video, oggi parliamo del Qatar Masters e in particolare di Magnus Carlsen il quale dopo aver perso contro un grande maestro sconosciuto che non faceva altro che toccarsi, sistemarsi l'orologio per tutto il tempo dopo non ne ha più persa neanche una, ne ha vinte tre e ne ha pareggiata una in quel video molti stanno ancora continuando a commentare chi dalla parte di Carlsen, chi contro Carlsen la verità è che in quella partita è successa una cosa strana l'avversario di Carlsen si presenta a giocare indossando un orologio e Carlsen perde ora come mai Carlsen non perde più? ma soprattutto come mai il tipo che lo ha battuto non ne vince più neanche una? giocando senza orologio? con questo non voglio dire che abbia imbrogliato, attenzione come mai non ne vince più neanche una? questa è la domanda prima di iniziare ricordo a tutti di mettere mi piace, di iscrivervi al canale grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo e iniziamo ok eccoci qui, Qatar Masters, sesto turno, Carlsen affronta con i pezzi neri il giovane grande maestro indiano Samant che è appena diventato grande maestro ha un punteggio di 2500 e qualcosa, simile al punteggio dell'avversario di Carlsen contro cui Carlsen ha perso e allora vediamo questa partita come se la cava Carlsen contro un 2500 Samant apre con e4 segue pedone 5 per Carlsen cavallo f3, cavallo c6, alfiere b5 rientriamo nella partita spagnola Carlsen interroga l'alfiere l'alfiere va in a4 e Carlsen gioca cavallo f6 la variante principale, attacca il pedone in e4 Samant continua con la mossa migliore, mette re al sicuro Carlsen gioca b5, attacca l'alfiere e dopo alfiere b3 gioca alfiere e7 queste sono le mosse principali segue torre 1 il bianco difende il pedone in e4 Carlsen gioca d6 pedone c3 Samant vuole giocare pedone d4 e occupare il centro Carlsen arrocca segue h3 mossa che previene alfiere g4 cavallo b8 per Carlsen può sembrare una mossa strana in realtà è una delle mosse migliori la seconda mossa più giocata l'idea è di piazzare il cavallo in d7 e poi di spingere il pedone in c5 Samant gioca pedone d4 occupa il centro sta giocando le migliori mosse per ora quindi entrambi stanno giocando molto bene quando siamo a mossa 10 Carlsen sviluppa appunto il cavallo in d7 segue cavallo d2 il bianco sta per eseguire la classica manovra del cavallo di donna nella spagnola ovvero cavallo d2, cavallo f1, cavallo g3 Carlsen fianchetta all'alfiere segue alfiere c2 torre 8 cavallo f1 appunto alfiere f8 stanno giocando proprio le mosse migliori in assoluto la spagnola è un'apertura molto teorica quindi ci sta non è una sorpresa entrambi stanno giocando a memoria Samant salta con il cavallo in g3 Carlsen gioca pedone g6 con pedone g6 controlla delle case importanti come h5, f5 e inoltre vuole fianchettare l'alfiere campo scuro segue pedone a4 il bianco gioca ancora la mossa migliore Carlsen continua con cavallo b6 arriva pedone b3 Samant difende il pedone in a4 Carlsen cattura e dopo pedone per a4 Carlsen gioca pedone a5 ormai siamo arrivati a mossa 17 e i due ancora stanno seguendo una linea teorica Samant sviluppa la torre in b1 e Carlsen esce dalla teoria con la mossa alfiere g7 il bianco sta un po' meglio non un grosso vantaggio non un vantaggio decisivo ma posizionalmente sta un po' meglio dovrebbe giocare alfiere b3 per mettere pressione su f7 e subito dopo cavallo g5 appunto per attaccare f7 il grande maestro 17 anni giovanissimo molto forte gioca pedone per e5 quindi non vede questa possibilità ma cattura in e5 la partita ritorna in perfetta parità Carlsen riprende di pedone arriva donna per d8 torre per d8 torre in b5 cosa ha calcolato Samant in questa posizione? in pratica vuole guadagnare un pedone sta attaccando il pedone in e5 con torre e cavallo e sta attaccando il pedone in a5 Carlsen non può difendere entrambi i pedoni quindi sceglie di difendere il pedone in e5 con cavallo d7 cade quindi il pedone in a5 ma con grande sorpresa qui addirittura è il nero che sta un po' meglio incredibile ma vero quindi Carlsen voleva proprio entrare in questa variante l'ha fatta apposta possiamo dire però la partita rimane equilibrata come mai il nero sta un po' meglio? Carlsen continua con torre a8 vuole cambiare le torri vuole riprendere subito il pedone in a4 e poi attaccare il pedone in c3 segue torre per a8 appunto torre per a8 il bianco gioca alfiere e3 e Carlsen recupera indietro il pedone quindi cavallo per a4 ora non ha nessun pedone in meno e sta mettendo pressione sul pedone in c3 Samant continua con torre b1 attacca l'alfiere in b7 segue alfiere c6 torre b4 la torre ora vuole venire in c4 attaccare l'alfiere attaccare il pedone in c7 quindi il bianco vuole guadagnare un altro pedone come vedete ragazzi questa è una partita normalissima una tipica partita giocata da Carlsen Carlsen qui sta cercando di rientrare in un finale Carlsen qui non ha mai sofferto il bianco non è mai stato in vantaggio sì Carlsen è uscito dall'apertura ma il bianco non ne ha neanche approfittato quindi ecco questa è una partita tranquilla insomma non vediamo un Carlsen che soffre come nella partita contro l'altro 2500 di qualche giorno fa che ha perso cioè dove Carlsen sembrava praticamente un principiante segue alfiere f8 Carlsen attacca la torre la torre si sposta in c4 appunto attacca l'alfiere e il pedone però Carlsen può giocare cavallo c5 ora il bianco deve stare molto attento perché? perché ben presto potrebbe ritrovarsi con una torre intrappolata quindi segue alfiere per c5 alfiere per c5 Samant ha una bella idea ovvero vorrebbe catturare il pedone in c5 e dopo cavallo per e5 salterebbe l'alfiere in c5 questa è l'idea del bianco ma neanche questa idea funziona perché Carlsen ha una mossa intermedia ovvero dopo cavallo per e5 arriva alfiere per f2 scacco e dopo re per f2 forzata segue cavallo per e5 in pratica la posizione rimane pari a livello materiale Carlsen difende anche l'alfiere con il cavallo il bianco sembra che abbia un po' di pressione sulla colonna c però non basta Samant continua con torre in c5 mossa molto logica attacca il cavallo se il cavallo si sposta cade l'alfiere in c6 Carlsen difende il cavallo con f6 arriva alfiere b3 scacco re f8 re in e3 entrambi cercano di centralizzare il re sappiamo che nei finali il re è un pezzo forte che deve giocare non può rimanere lì isolato Carlsen difende il pedone in c7 con la torre torre a7 mossa molto semplice Samant allora prova a portare il cavallo sul lato di donna segue re e7 cavallo in d4 re in d6 ecco qui stavamo proprio dicendo che la torre rischia di essere intrappolata ed in effetti se vedete in questa posizione la torre non può andare da nessuna parte però il bianco non sta male in questa posizione la posizione è pari Samant decide di sacrificare la torre sull'alfiere e dopo cavallo per torre segue cavallo b5 scacco il bianco attacca il re e minaccia di riprendere indietro la torre in a7 sta per riprenderla indietro ma cosa succede qui? Carlsen gioca re 5 e clamorosamente senza nessun motivo veramente il bianco gioca una mossa inspiegabile invece di catturare la torre con posizione pari il bianco gioca al fiere d5 oh mio dio che cos'è questa mossa? e Carlsen passa in vantaggio un grosso vantaggio ok vabbè l'avversario ha sbagliato altrimenti Carlsen non vinceva no non si può sapere comunque la posizione era pari ma ciò che emerge da questa partita è che Carlsen contro un 2500 può anche non fare niente per tutta la partita non rischia di perdere questo è il divario 2840 punti contro 2511 punti 2510 giù di lì Carlsen se è il numero uno al mondo ci sarà una ragione quindi quando perde può perdere certo che può perdere Carlsen può perdere perché comunque è un essere umano non è imbattibile non è alfa zero ma se poi perde in condizioni particolari secondo me è anche giusto che poi abbia qualcosa da ridire altrimenti se possono essere portati gli orologi al prossimo torneo ci presentiamo tutti con quattro orologi da posto su ognuna delle due mani praticamente con otto orologi andiamo lì sulla scacchiera a giocare a scacchi no non ho capito praticamente cioè Carlsen quindi qualcosa può dire anzi deve dirlo ha fatto bene anche perché il suo avversario che l'ha battuto non si è più presentato con orologi e non ha mai più vinto nessuna partita come mai ecco come mai comunque Carlsen in questa posizione difende il cavallo con la torre gioca torre a 6 segue cavallo per c7 torre in a5 Carlsen salva la torre in caso di alfiere per cavallo segue torre c5 attacco sull'alfiere sul cavallo quindi il bianco perde un pezzo e allora Samant continua con cavallo e6 Carlsen gioca cavallo e7 salva il cavallo ora vuole semplicemente cambiare i pezzi semplificare la posizione e vincere arriva alfiere c4 torre a4 la torre attacca l'alfiere alfiere b3 torre per e4 scacco re d3 e qui e qui praticamente inizia a crollare tutta la posizione del bianco come fa il bianco a continuare a giocare qui? no non può ha la qualità in meno pedoni pari Carlsen gioca cavallo d5 minaccia di entrare in e3 con scacco e di catturare il pedone in c3 minaccia di catturare il cavallo in e6 quindi samant in questa posizione giustamente decide di abbandonare perchè è una posizione disastrosa che sensazione vi da questa partita? a me personalmente sembra che l'avversario abbia giocato male no? secondo me a chiunque sembra così però qui l'avversario non ha giocato poi così male perchè ha giocato 18 mosse teoriche addirittura il primo a uscire dalla teoria è stato Carlsen concedendo anche qualcosa all'avversario e samant non è stato bravo a continuare quindi casomai è Carlsen che fa sembrare gli avversari troppo deboli anche se secondo me Carlsen qui non ha fatto una gran partita non ha fatto chissà cosa però l'avversario di qualche giorno fa ragazzi ha commesso zero errori ora voi avete visto che l'icesti dava 97% di accuratezza di chess calcola in maniera diversa l'accuratezza rispetto a chess.com però dava anche zero errori zero imprecisioni zero errori gravi zero 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 quello ha fatto la partita della vita se ha fatto la partita della vita va benissimo però appunto la prossima volta magari farà questa partita senza indossare un orologio da polso ma dimostrerà al mondo che può ancora fare partite di quel tipo per ora nei round successivi non le ha mai fatte e infatti addirittura una l'ha persa forse ne ha perse due ne ha pareggiata una non mi ricordo neanche comunque ne ha vinte zero grazie a tutti per la visione di questo video vi ricordo di mettere mi piace e di iscrivervi al canale ciao e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti